come questi tre cervelli si innescano ad esempio in ambito aziendale quindi parlando di struttura di gruppo cosa succede succede che il cervello rettile è quella che ci dà l'istinto gerarchico l'istinto di dominanza poi faremo un collegamento col branco dei lupi però è quello che istintivamente ci dice chi è che comanda è il cervello rettile velocemente cerca di individuare chi è che comanda e capire se c'è una predominanza se è lui che deve comandare oppure se c'è qualcun altro da seguire quindi l'individuazione della leadership naturale avviene attraverso il cervello rettile qui comprendete perché ad esempio le strutture militari hanno un tipo di gerarchia molto dura e molto basata sul comando perché il cervello rettile ha questo tipo di istinto cioè velocemente riconosce che la persona più forte ma poi vedremo che l'evoluzione ci dice che non è così quindi Darwin ha preso solamente la parte del cervello rettile nel formulare la sua teoria però istintivamente il cervello rettile dice chi è il più forte perché il più forte è quello che ci consente di sopravvivere e istintivamente cerca di individuare gerarchicamente la persona potenzialmente più forte poi vedremo che non è sempre così ok perché in alcune situazioni un leader eccessivamente direttivo può distruggere un gruppo maturo un gruppo in cui le persone sono autonome se è un leader troppo direttivo o troppo militaresco quelle persone se ne andranno poi cosa succede che il cervello limbico va a ammorbidire la rigidità o l'aggressività di un cervello rettile quindi diventa fondamentale sì avere una chiarezza e un polso una direzione la famosa autorevolezza ok che si genera con un lavoro anche del cervello limbico cioè di relazioni e di emozioni altrimenti rimane autorità la neocorteccia fa sì che le dinamiche che si creano in maniera naturale all'interno del gruppo siano funzionali ok quindi tradotto in azienda è bene chi è il leader le relazioni servono a comunicare ai vari livelli e quindi a fare in modo che non ci sia imposizione ma ci sia condivisione condivisione e la neocorteccia fa in modo che l'organizzazione sia funzionale se vedete queste sono le tre funzioni di base di un management ok sa per dare una direzione verso un obiettivo quindi obiettivi chiari cervello rettile relazioni condivisione comunicazione cervello limbico organizzazione pianificazione funzioni neocorteccia se uno di questi tre punti non c'è quella struttura gerarchico organizzativa è a rischio proprio perché anche la nostra sopravvivenza è data dalla cooperazione di questi tre cervelli grazie 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 a tutti